Guardate dove si è messo, il mio gattino è timido, si sta nascondendo, come vedete con il cellulare, non ti fa riprendere, vedete? Ciao ciao amici, ciao ciao, e qui c'è la mosca, la mamma, che sta sentendo il suo piccoletto, eccola qua, eccola qua, ok ok, ciao ciao, come dici? Ciao ciao, ciao ciao. Ciao ciao a tutti amici, benvenuti nel canale, allora oggi cominciamo con una dedica di buon compleanno e facciamo gli auguri ad Anna, ciao Anna, che mi ha scritto che oggi 3 luglio compie 33 anni, tanti auguri Anna, buon compleanno, ok, ti porto questa battaglia navale, ti dedico la battaglia navale numero 5 della serie 67, ok, buona buona giornata e facciamo la nostra trattata, ok, allora, vediamo, prima coordinata abbiamo F3, cominciamo con quella norma, poi segue A7, con questa la sorella, e 4, poi abbiamo A4, acqua, A3, ok, e 7, acqua, 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 e 5, e 5, e 5, eccola, e D6, acqua, un po' troppa acqua in questo bulletto, D7, questa, quella di 4 e poi A2, ma niente carissima Anna, mi dispiace, ma questo il bulletto non è buon certo, passiamo la ricerca del nostro scrignetto, vediamo un po', se in caso proviamo lo scrigno, ma non so scrigno, ok, va bene, ok, questa, allora la battaglia numero 5 è presente, ti dedico anche questa bussel, vediamo un po' che c'è bussel, bussel numero 25 della serie 40, vediamo un po'. Allora, prima peccettino 42, eccola, poi segue 57, che non abbiamo, 23, niente, 32, 32, eccola, e 37, abbiamo 36, ma 37, niente, abbiamo 22, ok, 63, eccola, e 36, ok, abbiamo 58, 58 non c'è, 65, ok, 72, 70 non c'è, 46 neanche, 39 ci manca, 28 niente, 29, non ce l'abbiamo, ultima possibilità, 49, e c'è poi sentito in giro, carissima, vedi? Ci mancava il 20, c'era tanto tempo, ma niente, biglietto non vincente, mi dispiace caranna, comunque ti faccio i miei sentiti auguri, auguri diversi di oggi per i tuoi 33 anni, una buona giornata, diversi insieme ai tuoi cari, e niente, mi dispiace che non ti ho potuto fare una vincettina con questi due biglietti, intanto ti saluto, ti ringrazio per la richiesta, continua a seguirmi, ti mando un grande bacio e tanti auguri ancora di buon compleanno, ok, allora, vediamo un po' cosa facciamo, adesso abbiamo un'altra battaglia navale, questa, sempre la stessa serie, numero 6, questa si chiama Orietta Succo, 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 scusami, Orietta Succo, ciao Orietta, ecco qua, la tua battaglia, questo abbiamo detto il numero 6, vediamo un po' che ci dice, allora, E2, ok, poi abbiamo F2, e B4, B3, ok, abbiamo avuto una barchettina carissima, Orietta, una barchettina ce l'abbiamo, poi E7, E7, poi abbiamo B7, F3, F3, E5, E5, E3, l'ultima possibilità a 7. Ah bene, abbiamo doppia vincita, cara Orietta, vediamo un po', abbiamo messo la bacchetta due volte quella da due caselli che ci dice, 30 euro, bene, sono 15 euro, buon barca, bene, cara Orietta, grazie per la richiesta, questo biglietto abbiamo 30 euro, ti ringrazio, ti saluto, continuo a richiedere, stammi bene, come voi tutti amici, ok, fatemi cancellare Orietta, ok, perché hanno buono queste battaglie navali, se ne vanno questo tempo di gesta, ok, la prossima è anche una battaglia navale, questa numero 7, vediamo un po', questa la dediciamo a Claudiana Pedro, ciao Claudiana, ecco qua la tua battaglia, vediamo un po', c'è anche questa importunata, che stanno così storta, non capisco, sono della stessa serie, 67, numero 7, allora, vediamo un po', allora, prima coordinata abbiamo E5, acqua, cominciamo col tempo in acqua, F7, ok, D5, acqua, D3, H1, acqua, C6, dobbiamo se c'è, C6, no, c'è il Titanic, no, non ci interessa, C2, questo è il fratello, la sorella, D1, E2, ultima possibilità, D1, e niente, mi dispiace Claudiana, vediamo un po', cancelliamo la griglia, qua, vediamo se hanno dimenticato qualcosa, troppo la nostra acqua, vedrà quanto sembra, niente dimenticato del nostro buraccio, niente, 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 mi dispiace ma non è funzionato questo buraccio, Claudiana, sarà per la prossima volta, intanto vi saluto e ti ringrazio per la richiesta, ok, prossimo biglietto, un mamma non mamma, numero 40 della serie 21, questo lo dedico a tutti, non ho una richiesta particolare, che si dice, ok, lo dedico a tutto il canale, bene, vediamo un po' cosa ci dicono, che questi non li trovo facilmente questi bigliettini, oggi li ho trovati, allora, televisione bonus, primo biglietto, abbiamo un pennello, poi un cuore, smile, pantaloni, poi abbiamo il sole, secondo cuore, cuffie, mano, terzo cuore, colomba, terzo, quarto cuore, chitarra, quinto cuore, e basta, vabbè, abbiamo preso 3 euro, abbiamo ripreso il bigliettino, e vabbè, sta bene anche così, comunque questa grattatina penso che ci andava bene oggi, perché abbiamo grattato un po' di bigliettini, allora, abbiamo grattato uno, due, tre, quattro, cinque biglietti, oh carissimi amici, non so la vostra linea cosa combina, non so perché di nuovo, ai saluti si mi si è spento il cellulare, e niente, comunque era finito il video, non stiamo solo salutando, e stavo dicendo che abbiamo preso 33 euro, con la nostra grattata, proprio come gli anni di Anna, ciao Anna, anche se i suoi bigliettini non erano vintenti, però alla fine il budget è stato 33 euro, e adesso vi saluto a tutti, a te e a Anna, anche se rinnovo ancora gli auguri questo compleanno, e ti saluto, diceva il mio gattino che sta mangiando, vedete si è messo nella padella dove c'è, dove c'è, dove c'è, dove c'è i corrocantini, e vabbè, niente carissimi amici, non mi riesco a salutarvi, ciao, ciao, al prossimo video, un bacio, un abbraccio alla linea, ciao! Grazie a tutti!